Segretario! Segretario! Ma non è solo per un ricordo, è una pedalata contro il ritorno dei fascismi, è una pedalata per ricordare in questo caso che la democrazia che abbiamo, la Costituzione che abbiamo è stata frutto di una vera e propria lotta di liberazione, che ha visto assieme tutte le persone di qualsiasi orientamento politico che volevano cancellare il nazismo e il fascismo e riconquistare una libertà, una democrazia che era stata perduta e credo che questo non sia solo un ricordo ma sia un monito perché la democrazia la si difende praticandola e la mia presenza qui e della CGL è per ricordare da un lato che il movimento dei lavoratori, il movimento operaio ha dato un contributo decisivo per riconquistare la democrazia e come esista un nesso molto stretto tra il lavoro e la democrazia. Quando i diritti nel lavoro vengono cancellati, quando il diritto di siopero viene negato, quando aumenta la precarietà, quando si indeboliscono i diritti nel lavoro si indebolisse anche la democrazia e quindi per quello che ci riguarda questo di oggi è un percorso dentro ad un percorso di mobilitazione che vedrà nelle prossime settimane momenti di siopero, di mobilitazione, di nuovo di manifestazione a Roma proprio per affermare, rimettere al centro il diritto al lavoro contro la precarietà, il diritto alla sicurezza e la difesa dei diritti fondamentali di una democrazia. Quando ad esempio ormai il 50% dei cittadini a votare non ci va, vorrei ricordare che uno degli elementi della democrazia e della sconfitta del fascismo e del nazismo è stato proprio riconquistare il diritto al voto e il diritto a partecipare, così come la democrazia si sostanzia, insisto su questo, sul lavoro, cioè che le persone possano attraverso il lavoro vivere dignitosamente, essere liberi e soprattutto poter partecipare alla vita democratica del Paese. Quando questi elementi entrano in crisi è evidente che bisogna difendere la democrazia praticandola, quindi io credo che non ci sia solo un problema di memoria, c'è un problema di pratica quotidiana e di rimettere al centro i valori fondamentali della nostra Costituzione, che sono il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla cura dell'ambiente e che sono il diritto ad avere diritti.